Ciao pronti, per il secondo tempo in campo Diego Giussi, Andrea Speziale, Massimo Spezio, il numero 4 Stefano, il nuovo portiere che servirà alla squadra per il secondo tempo Claudio Lupino Giù ha lo scatto, non è con lui, Cristilli e Giovanni, Giovanni per Stefano, Stefano la mette a Massi, Massi la rimanda indietro a Riccardo Carinacci che da quasi mette a campo, mette la palla in merda, bellissima azione Si riparte, il numero 9 allarga il numero 3 della formazione della SIS che fa un passaggio ma... distratto, Massi scatta con la palla, subisce il pallo e arriva da solo davanti alla porta, peccato, non riesce a mettere la palla in merda Lancio lungo, lancio lungo del portiere a servire il numero 9 che è contrastato da Stefano, commette il pallo, viene assegnato il rigore, ma c'era un... l'attaccante aveva ancora la palla sulle mani Tiro e gol del numero 9 Alla battuta Alla battuta Giovanni per Stefano Stefano viene il pallone e allarga sulla destra per Pistilli che viene anticipato Palla agli avversari Commette il pallo Numero 9 serve il numero 7 Ancora gioco tra i due Palla messa al centro Palla messa al centro Ma arrivano sia Stefano che Giovanni che rubano il pallone e rimettono la palla in mano a Lupino Lupino allarga per Battistelli Battistelli, Battistelli ancora avanti per Stefano Stefano avanza Si ritrova da solo Prende il pallone, prende il pallo Sfumato si l'azione Avanza il portiere della Sisse Pallo di Massimo sul numero 9 Batte il servo al numero 10 Fermato fallosamente La battuta scavalca il giocatore della Roma Numero 9 mette la palla al centro Il tiro è debbola Il tiro è debbola Può tranquillamente Giovanni dare una palla a Lupino Lupino rimette Palla in attacco Rimette la palla per Edoardo Ma la... scusate per Riccardo Ma la palla in attacco si riparca al contrario Palla lunga per Massimo Massimo... Non è Massimo? Adesso giusti Diego si ritrova davanti Palla lunga per Stefano Che serve Diego e mette... Mette la palla in rete Ottima, ottima intesa tra i due Cambi Cambi entra Leonardo Di Carlo Il numero 5 che abbia le carte Alla battuta il numero 9 lascia la palla al numero 3 Che serve sulla destra La ragazza della Siste Roma Palla a scavalchiare Gabriele Ma... Battistelli si imposta ad essere il pallone Non serve il nostro portiere Ma... L'attacco... L'attacco... Fulminio... Tra... Massimo... Conquista... Riceve palla e... Segna... Segna il... Segna il... Segna il gol... Su passaggio di Valerio Castillo Su passaggio di Valerio Castillo Che allunga... Che allunga... Allunga il pallone... Per... 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 Il numero 2... Valerio... Segna... Segna... Segna il gol... Il 10... Del 10... A tre... A uscire i stilli... Macedonio... Tarta... alla... Cercare di pensionire... Di pensare a pensare... La palla... Comunque viene avanti... Diego... Cadaccio... Caracciolo ferma l'attaccante con la calottina numero 13, tiro del trema e viva ferma il pallone, Caracciolo sulla sinistra a cercare, carta, carta, mette la palla in mezzo per mette la palla in mezzo ma gli viene tolto il pallone, Caracciolo non ha fischiato nulla fino adesso, c'era Leonardo, Leonardo batte il pallo, serve bellissimo, carta che la appoggia e gonfia la rete. Sicuramente ci stiamo perdendo sul risultato, sul numero di toglia segnati, in campo anche Emanuele Sasso, si riparte, palla al centro al numero 10 contrastato da Sasso, peccato, il numero 3 prende palla ma l'azione difensiva di Leonardo non è sufficiente a impedirgli il tiro e segna alla battuta Leo per Battistelli, Battistelli per Diego, Marco Caracciolo che allarga per Gabriele sul lato sinistro, Gabriele tenta, subisce il pallo, porta la palla avanti per Emanuele, per Diego ma la palla è lunga e arriva nelle mani del portiere avversario che riparte, avanza, serve sulla destra il numero 9, 1-7, ancora, ancora, avanti, sta palla al centro, palla, palla numero 7 e tenta il tiro, scheggia la traversa e la palla ritorna indietro, e la rimane le mani del portiere, sul lato destro Ubaldi, Lorenzo avanza, Lorenzo avanza e vede libero Leonardo, palla al centro per Leo, Leo cerca un compagno, prova il tiro e il tiro finisce a di Vivaldo, palla lunga del portiere avversario a servire al numero 10, marcato da Emanuele, che commette fallo, palla a cambio del campo, ma il tiro del numero 3 della formazione del battaglia non è significativo, palla lunga, palla lunga per Gabriele, Gabriele carta, cagliato solo anche al portiere, servito meravigliosamente da Claudio Lutino, segna la marcativa. Si riparte, numero 9, battuta, numero 12, numero 10, braccato da Lorenzo che commette fallo, palla al centro per il giocatore numero 9, fermato fallosamente, si schiato e rimone in due su di lui, sia Carta che Emanuele che Daniele, lo fermano fallosamente. Il 4, la battuta, il tiro, all'angolino destro, inganna il portiere. Edoardo alla battuta, palla numero 7, Diego, Diego cerca un compagno, viene ostacolato dal numero 9, fermato fallosamente, il numero 7, si batte la palla, ma il passaggio è corto, il 12 la intercetta e Emanuele cerca di fermare la mazzata numero 12 che fa un tiro leggero ma la palla piano piano arriva all'interno della porta. Finisce così anche il secondo dei due tempi con il risultato definitivo del 13-12-4. Bene, fate un po' bollino.